bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di fortnite e le news delle ultime 24 ore parleremo di alcune cose incredibili che sono state scoperte nei file di gioco tra cui la nuova ltm che si chiamerà grotto che ovviamente prende il nome dalla grotta ma anche nuove missioni dedicate a mida prima di tutto volevo ringraziare però i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora ci buttiamo direttamente nel primo argomento di oggi e porca miseria mi sono dimenticato di fare una cosa mannaggia 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 la mannaggia sapete che cosa ho dimenticato di fare di mettere le nuove immagini track nuovo argomento di oggi ragazzi si parla di face dubs chi è face dubs ovviamente è una persona un ragazzo che già abbiamo trattato nei video precedenti perché più di una volta in qualche occasione soprattutto nel competitive si è fatto riconoscere purtroppo non per delle belle cose si parlava di cheating addirittura accusato di aver utilizzato lane bot lui si è sempre difeso le cose sono andate diciamo un po a suo favore ovviamente ha un clan dietro che lo sostiene alcune cose sono state insabbiate ma oggi vi faccio vedere un'altra cosa molto incredibile accaduta all'fncs se andiamo a vedere un attimo la classifica della fase che si è appena conclusa vediamo al primo posto energy unknown che ha dominato con un distacco di 90 punti quasi rispetto al secondo ma ci focussiamo un attimo sulla settima e sull'ottava posizione face dubs arriva settimo con 112 punti mentre waffles all arriva ottavo con 107 perché vi faccio vedere questi due nomi vi faccio vedere il video intanto vi parlo sotto perché un utente ha fatto un controllo ed effettivamente in questo caso vediamo che waffle ha sparato un colpo ad abs in questa partita e ci può anche stare poi lo ha completamente ignorato come dice questo video ma se andiamo a vedere nel game successivo succede un'altra cosa molto molto sospetta sembrerebbe veramente teaming sono sempre al pozzo questo è un altro game e sembra quasi che si diamo il 3 2 1 per sparare contemporaneamente ad un giocatore anordi che è fermo invece sull'isoletta davanti guardate parte dubs parte subito anche waffles all e in pochi istanti dubs si riesce a killare anordi e ovviamente nessuno di due si guarda ma la cosa più eclatante è questa come vedete sono quasi in un endgame c'è un attimo di ignoranza in tre sul tetto nessuno che builda e soprattutto nessuno che si ammazza fanno finta di spararsi magari si prendono anche con un colpo ma purtroppo la cosa è evidente e credo che in questo momento verranno prese seriamente delle sanzioni disciplinari per dubs che purtroppo è recidivo in questi comportamenti poco sportivi ma andiamo avanti nel prossimo argomento di oggi ragazzi questo forse non ve lo ricordate ma lo abbiamo trovato nella patch 12.50 ed è confermato essere un nuovo starter pack la vera domanda è non sappiamo il nome innanzitutto la si chiama amichevolmente la skin della donna gialla ovviamente per ovvi motivi lo vedete che è tutto giallo è uno starter pack perché abbiamo la certezza che viene fornito con questo piccolo bundle skin piccone vbucks e sappiamo che i vbucks saranno 600 se non ricordo male quindi il prezzo è ovviamente di 4 e 99 come tutti gli starter pack la cosa ovviamente curiosa è che se uscisse in questa season anche se manca oramai un mese sarebbe la prima season ad avere due starter pack siccome iris lo abbiamo già potuto acquistare non sappiamo in realtà ufficialmente con che season uscirà io mi auguro non sia in questa anche perché non avrebbe assolutamente senso e quindi potremmo classificarlo come starter pack della season 13 o meglio season 3 del capitolo 2 andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ragazzi lo vedete qua con uno sfondo molto chiaro il nostro brutus con dietro la grotta perché vi parlo di brutus e della grotta perché confermata una nuova ltm su cui epic games sta lavorando in maniera molto intensa e che porterà una ventata d'aria fresca in game in un'altra immagine ovviamente vediamo semplicemente il background della grotta ma questo background deve farci un attimo capire delle cose non è un caso che stiamo vedendo l'elicottero che si alza in volo perché se andiamo a guardare nei file di gioco è stata trovata questa cosa che è veramente molto interessante e giustamente voi mi dite ma che cavolo mi fai vedere un cerchio viola no caro quello non è un cerchio viola torno nell'immagine di prima un secondo quello è esattamente il portellone che vedete là in alto di uscita dell'elicottero solo che è semplicemente chiuso ed è una cosa che attualmente non è possibile in game perché è sempre aperto sappiamo che l'ltm si chiamerà operation grotto quindi operazione grotta probabilmente in italiano non sappiamo assolutamente quale sia lo stile di gioco ma sappiamo che ci stanno lavorando da un bel po quindi non dovrebbe essere niente di buttato lì e per buttato lì intendo qualcosa come operazione carico che oh mio dio sinceramente l'ho giocato un pochettino ma non mi piace non mi piace quindi ragazzi nuove informazioni speriamo ovviamente che anche questa ltm sia divertente e appena saprò qualcosa lo saprete anche voi ma andiamo avanti invece a parlare di un altro argomento spade laser sì ragazzi lo sappiamo le hanno messe oramai da un paio di giorni ma ci sono degli aggiornamenti devo dire che le spade laser viste adesso rompono davvero il game in una maniera incredibile io non me le ricordavo così rotte le spade laser due parate e quattro colpi l'avversario va giù ma arriva ovviamente un post da parte dei leakers che confermano essere oggi il giorno in cui le spade laser verranno rimosse dal game quindi ragazzi per la felicità di molti di voi spade laser le tolgono non c'è più nessun problema e tanta tanta roba tra l'altro vi ricordo un attimo rimanendo in tema di star wars che se nel negozio di fortnite acquistate star wars g di fallen order uno dei giochi che è presente appunto nella libreria di epic games otterrete gratuitamente in game l'imperial stormtrooper quindi la guardia imperiale bianca che è molto molto carina ovviamente fedelissima all'originale una piccola annotazione per qualcuno che magari se lo fosse dimenticato e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi in nuova zelanda da poche ore è disponibile il lava legends pack o mio dio è già successo qualcosa del genere un mese e mezzo fa abbondante dove per una manciata di giorni rimisero in game o meglio nello shop il frozen legend pack insomma la valchina di ghiaccio il pesce di ghiaccio e porca vacca e il mostro per chi se lo fosse perso nella season 8 l'ultima probabilmente occasione per poter inserire questo tris di skin o sono due io me ne ricordo tre ma sinceramente è passato troppo tempo nel proprio armadietto quindi non lasciatevi perdere l'occasione ovviamente c'è anche il deltaplano tutto a tema di fuoco era per festeggiare ovviamente la base della season 8 che si basava appunto sulla lava e sull'eruzione del vulcano ma voi siete d'accordo con il ritorno ragazzi di questi bundle oppure no se volete fatemelo sapere qua sotto nei commenti che sono curioso di leggere cosa ne pensate arriviamo a praticamente alla fine del video ragazzi si parla di mida vi avevo parlato e vi avevo detto che ci fosse stato un nuovo mini games di mida e quindi senza indugiare mi sposto direttamente nella base di mida ragazzi guardate vedete che ci sono dei lingotti a terra vedete adesso sotto il grammofono alla base proprio di questo mobile guardate si potrà non sappiamo quando però prendere i lingotti appena li chiederanno ovviamente li recupereremo il secondo è alla base della scrivania abbiamo il terzo invece che è sull'angolo del tappeto e il quarto invece sul tavolino quindi non appena saranno disponibili disponibili queste missioni il video già lo sapete ve lo caricherò ugualmente non sappiamo quali ricompense diano e non sappiamo quando arriveranno beh ragazzi io vi ringrazio anche per oggi per aver guardato tutte le news dedicate a fortnite mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao 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 ciao